Maradona, Nemo e Olmo per il comando sbaglia prima del lancio, Maradona Car, Olmo avanti a Nemo Griff in terza posizione, Mariu, poi Malile e Olmar, la squalifica per Maradona Car impiegata, Olmo al comando, Olmo avanti a Nemo Griff che pesano sposta ora in fuori, avanti a Mariu, poi Madec, quindi all'esterno a Mogol del Cigno, si esce dalla piegata con la squalifica per Madec, quarto iniziale veloce in 29,3, Nemo Griff nuovo leader avanti a Olmo, in terza posizione Mariu, quarto in fuori, Mogol del Cigno, passaggio davanti alle tribune, Nemo Griff precede Olmo, i 600 in 44,4 alla media di 1,14, spostato Mariu, in vantaggio Nemo Griff, seconda in fuori Mariu, terzo di dentro rimane Olmo, e così al paletto di metà corsa, 31 letti la seconda frazione, 15 a 4 la media per i primi 8, con Nemo Griff avanti a Mariu, poi Olmo, quindi Orgian Bon, tanto sbaglia e viene squalificato Manello al mare, 15 letti per il chilometro, sempre Nemo Griff all'avanguardia, al suo esterno parenti insiste con Mariu, poi Olmo avanti a Orgian Bon, anche Mogol del Cigno a tabellone, quinta posizione MKG, 28,6 la terza frazione, Nemo Griff e Mariu, sempre in lotta, Nemo Griff al comando, entrando in dirittura nella sua scia, Olmo, all'argo scatta Orgian Bon, Nemo Griff su Olmo, non persevera Mariu, per il momento scatta Orgian Bon, mentre Olmo è passato avanti ad Orgian Bon, nel finale Olmo, Orgian Bon, e per la terza probabilmente MMKG, 36,4 conclusivo, 1,59,5, il tempo totale, la media al chilometro, di 1,14,1, per il successo di Olmo, che arriva dopo lunga assenza dal traguardo, 4 vittorie in carriera, ma nessuna negli ultimi 12 mesi, la sigla a media.